Musica Allora maestro, rimane solo lei, solo che volevo vedere una cosa, ecco esatto Ah, ecco cosa c'era di nascosto Quindi tutta sta roba si può rompere Solo che ovviamente hai bisogno di tutte le abilità per poterlo fare Quindi immagino che adesso mi serviva un'altra abilità per rompere quella cassa Ho capito, ho capito gioco Fai schifo E quindi Va bene così, va bene così Il porto Che tra l'altro io credo di aver chiamato l'episodio il molo Ma il significato è lo stesso Quindi mi cambia realmente di poco Ma al massimo cambierò il titolo Il prossimo è la piazza del mercato Bue, ok Certo cool Fermatevi 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 Wow 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 Maestro scimmia è arrivato Ehi, dove è andato? Pronto a perdere? Io ti piegherò Scimmia, insegui i ladri mentre mi occupo di questo ammasso di peli Va bene Po Oh Oh Sembrava una YouTube poop Ma dai Oh Gesù Oh no Anche le YouTube poop Dentro sti giochi no però Già sono brutti Se poi mi metti Anche I termini delle poop Mi fai morire Veramente Certo po' Oh Oh Sembra Uscita direttamente da Mastercast Dai Vieni qua Ormai ho masterato Alcune delle abilità principali del gioco Quindi Non mi puoi fare nulla Eh già Dai vieni qua Dai 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 Vieni No Quelli sono i tuoi calci Infatti hai lanciato un tizio Contro un vaso in una maniera incredibile Sto giro Te lo riconosco Sì Gliel'ho fatta vedere a quei lupi Certo Ma erano solo un diversito Eh Già Lo sapevo Volevo esserne Sicuro Ahah Dove è andato di preciso Nelle fogne Alla città di sotto La città di sotto E dove sarebbe È una città segreta sotto la città Giusto Lo sapevo Sì sì Lo sapevo Ma cosa sapevi tu Ma stai zitto Per favore Ah maestro Dove devo andare Di là o di qua Non è che me l'ha proprio detto Vabbè chi se ne frega Immagino No Immagino niente Non Dove devo andare Maestro Mi spieghi per favore Vai al cancello del drago Ah ok Ma Di solito in queste zone C'è il L'icona Di tigre Che ti mette la scala Qua non c'era niente Non era Così intuitivo Quella era dove eravamo Con Shifu Fantastica questa stato antica È anche una porta Una porta segreta Per la città di sotto Ma non l'ho mai aperta Per passare Dobbiamo entrare nel drago Capiremo come fare Non può essere così difficile No Berrutto Mi state dando sui nervi Dai Dai Su 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 Vieni Vabbè La mossa del maestro Croc In qualche modo è stata utile Ah ma posso colpire più gente In una botta sola Ah allora questo La rende un pelo più utile Di quanto in realtà non sia La rende un po' utile Allora Aspetta che Io intanto Voglio rompere Tutta la roba No Ah ok Non c'è nulla Questo piccolo drago Sembra fuori posto Andrà da qualche parte Stai zitto Sto guardando Le cose io Andrà da qualche parte Tipo qua sopra Ah no Ehi guardate Quegli artigli sembrano fatti Per sostenere qualcosa Ah perfetto E beh In realtà no Cioè Quegli artigli va bene Che sembrano che devono Prendere qualcosa Ma Addirittura Prendere sta statua intera Mi sembra un po' eccessivo Vediamo Forse l'altro Dai Aspettiamo che arrivi Ma che pezzo di merda Spirale E cufuf Ecco qua Qualcun altro Ma stronzo Stai zitto E' palese Che dobbiamo mettere L'altra statua E' inutile Che continui a ripetere Forse dobbiamo Mettere qualcos'altro Va bene Che questo gioco E' fatto per i bimbi E devi spiegare tutto Però in questo modo Li rendi più stupidi Di quanto in realtà Non sia una volta Basta anche Faglielo intuire Spiegare le cose Non tutti i bambini Sono così stupidi Eh Cavolo Po' Non va bene Spiegare le cose Ma ci sono dei limiti Anche Ed eccolo qua Il crocococ Mi sento Sopraffatto Da Di sotto Non ha paura Del buio Cos'è stato Avete sentito Mamma mia Ti prenderei A calcire il culo Po' Sincero Ti manderei A cagare io Fossi maestro Maestro bue Ti avrei Mandato a cagare Letteralmente Ok Proseguiamo Aspetta Dammi anche questo Che tanto io Non l'ho capito Perché li sto ancora Prendendo tutti Sti oggetti Però Non possiamo Permettere Che una porta Sbarrata Ci blocchi Ora Spaccala Bel colpo Avete polverizzato La porta Con il solo Piede In realtà Era una mano Però Veramente ha usato Lo zoccolo Che dovrebbe essere La mano Però fa niente Cosa sono le tartarughe ninja Coccodrillo Mamma mia Ok No Non era questo Che doveva succedere Ah beh Sì maestro Però Non faccia nulla Mi raccomando Va bene così Io ho preso un trofeo A caso Mi raccomando Maestro Lei stia lì E non faccia nulla È proprio brutto È un drago Di comodo È da parecchio Si sente parlare Che sia una città Cosa Brutta Allarmante Andiamo nel deserto Indagare Il deserto Arrivo maestro Andiamo nel deserto Andiamo di sotto Andiamo di sopra Andiamo di sotto Sopra Va bene maestro Mi faccia vedere Non so perché avevo La giusta intuizione Potessi romperla Sincero Ah immagino Che dovrò usare La spirale Per arrivare là Allora Dammi Questa roba Io intanto Mi faccio un giro Quello È un poster Tipo Nella tana Dei nemici Ma va bene Ha molto senso Magari ci stavano studiando Ok No Non è riuscito a passare Va bene Guarda Non importa Non importa Vediamo Continuiamo Un attimo Dai A vedere Cosa c'è da queste parti Pensavo ci fosse Un oggetto dorato Anche se Continuo a ripetere Non ho idea Se tutto ciò che stiamo raccogliendo Ci serve Effettivamente A qualcosa Ok mi stavo giusto chiedendo Dove saremmo finiti Prendila Perfetto Altro trofeo Ovviamente Ed eccoci qua Andiamo nel deserto Ora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti